la grecia ha patito negli anni scorsi e in una situazione di crisi dove non è che solo l'italia ha patito questa crisi ma anche tutti gli altri paesi quindi a pagare chi sarà chi sarà cosa accadrà nel rapporto tra banca centrale europea e governo italiano e quindi gli italiani in generale a partire da quelli che soffrono di più a un certo punto ci diranno che dovremmo restituire due soldi e arriverà qualcuno che ci spiegherà perché per restituire quei soldi bisogna tagliare la spesa pubblica la spesa pubblica ci può essere un inefficacia della spesa pubblica bisogna sistemare i prezzi ma il grosso della spesa pubblica sta nelle pensioni e nella sanità voi sapete la sanità è stata distrutta anche con questa idea dell'aziendalizzazione perché per dare l'idea dell'efficienza invece di far funzionare lo stato hanno deciso di fare 20 aziende sanitarie diverse avete visto che casino è venuto fuori e le regioni gestiscono di fatto ogni regione circa l'84 85 per cento lo spende in sanità quindi le regioni servono a far funzionare la sanità pubblica ci tireranno le orecchie tanto sulle pensioni ma non saranno a pagare le pensioni d'oro saranno la grande massa perché se vuoi fare carico fiscale devi prendere dove c'è e ci sono milioni e milioni di pensionati prenderanno lì sotto i mille euro prenderanno lì perché sono lì diciamo i grandi numeri e la sanità pubblica uguale ce la taglieranno ce la devasteranno devasteranno lo stato sociale l'assistenza agli anziani l'assistenza ai disabili l'assistenza ai più deboli questo succederà ci priveranno ancora di più con questi soldi a strozzo ci metteranno nelle condizioni di un paese totalmente distrutto questo sta accadendo e quindi cosa bisognerebbe fare bisogna cambiare proprio il modello di sistema da una parte e dall'altra parte svincolarsi da questa gabbia europea svincolarsi da quei parametri tra l'altro sono parametri che sembrava prima fossero assolutamente non cambiabili no vi ricordate assolutamente il 2.32 punto virgola adesso dicono che si può fare lo dice draghi quello che era uno diciamo dei più rigorosi no conte di quei conti no e allora allora si poteva cambiarsi può cambiare perché adesso gli salta tutto alla baracca e infatti questa baracca non va più bisogna proprio cambiarla dobbiamo ricostruire un pensiero grazie a tutti 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 grazie a tutti